ciao amici benvenuti nel mio canale sono qui con un nuovo video la famosa coppia eos je gurel e serkan kayoglu sono tra le coppie esemplari del mondo delle riviste con la loro felicità i famosi attori hanno iniziato ad avere una relazione dopo essersi incontrati la dichiarazione del bambino è arrivata da os je gurel che è tornata sugli schermi con la serie si fa i fan di os je gurel e serkan kayoglu erano entusiasti ecco la descrizione del bambino di os je gurel ecco la descrizione del bambino di os je gurel non pensiamo ai bambini la coppia che ha rilasciato una dichiarazione per la prima volta dopo il matrimonio ha fatto una dichiarazione sorprendente sul bambino os je gurel che ha affermato di non pensare ai bambini non prende l'idea dei bambini con calore ragazzo è fantastico ma io e serkan non abbiamo un'idea del genere disse amici non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per essere sempre informati su nuovi video e nuovissimi post non 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 Grazie a tutti